Oggi andiamo a vedere come si progetta l'unità didattica di apprendimento per un'attività di tipo laboratoriale. Il metodo su cui si basa la progettazione di un'attività di laboratorio è quello elaborato dal pedagogista John Dewey tra l'Ottocento e il Novecento e si basa essenzialmente su il ruolo fondamentale che ha l'esperienza durante la fase di apprendimento. Il metodo di Dewey si applica per attività di tipo laboratoriale ma non solo, anche per attività di tipo progettuali, quindi non solo per le discipline STEM, per le discipline scientifiche, ma anche per le discipline di tipo più progettuale, quale può essere progettazione, laboratorio legno o progettazione metalli eccetera. Quindi in tutte quelle fasi che riguardano la progettazione e le scienze empiriche si applica il metodo di Dewey. In cosa consiste questo metodo? Questo metodo come si può vedere è un'altra rielaborazione di quello che è il metodo sperimentale. Si parte da osservare delle variabili, da fare delle ipotesi, da progettare un esperimento, quindi verificare se l'ipotesi è vera oppure no e nel caso in cui l'esperimento non dia esito positivo, quindi negativo, ripetere la procedura fino ad arrivare alla soluzione corretta. Il problema che ci si pone in questo metodo può essere la valutazione. La valutazione può avvenire a seconda del caso delle discipline progettuali o scientifiche in due modi diversi. Per l'attività di laboratorio si può valutare una relazione o report finale che fanno gli studenti. Per un'attività di tipo progettuale si può valutare un modellino di un progetto che viene fatto appunto alla fine del lavoro. Quali sono i tre concetti fondamentali che Dewey individua nel suo metodo pedagogico? Sono innanzitutto il lavoro di gruppo che avviene durante la fase dell'attività di apprendimento, che è collegata con l'educazione e rispetto, aggiungere io, reciproco delle parti dei diversi gruppi, che è collegata ancora al concetto di democrazia. Questi tre concetti sono legati tra loro e fanno parte di quella che è la filosofia pedagogica di Dewey. Qui in questa slide io riassumo quelli che sono i punti fondamentali dell'unità didattica che ho già spiegato in uno dei miei video precedenti, quindi il titolo, il tempo, i prerequisiti, qual è il problema, l'esposizione del problema, la realizzazione del lavoro che può essere di gruppo, eccetera. In questo caso il lavoro sperimentale fatto in gruppo e poi la verifica degli apprendimenti che avviene tramite una relazione di laboratorio di cui tratteremo successivamente. L'esempio è che vi vado a riportare l'esempio della classe di concorso 027 e in questo caso sono andato a progettare un'unità didattica di apprendimento che si basava sullo studio della relazione tra la massa e il peso di un corpo. Il tempo di realizzazione variava da una a due ore circa. I prerequisiti sono la definizione di massa, definizione di forza, definizione di grandezze direttamente, inversamente, proporzionali, che cos'è il metodo scientifico. Ho messo qui un messaggio di attenzione nell'attività diciamo iniziale, prima di lasciare gli studenti in loro autonomia, il docente a mio avviso deve dare qualche direttiva riguardo agli strumenti utilizzati riguardo al problema con qualche indicazione diciamo per non lasciare proprio lo sbando totale gli studenti. Qui c'è un esempio di elenco degli strumenti del laboratorio di fisica un po' datato, nel nostro caso si utilizzerà un dinamometro e una bilancia, uno utilizzato per misurare la forza e l'altro utilizzato per misurare la massa degli strumenti, quindi il docente illustra il problema, vigila anche durante la procedura dell'esperimento, andando a osservare anche come le diverse parti interagiscono per arrivare alla soluzione, segue le fasi quindi dell'esperimento oppure di progettazione, se è un'esperienza riguardo un'attività progettuale, poi gli studenti raccoglieranno i dati, arriveranno delle conclusioni e la valutazione avviene tramite la correzione di questo elaborato, questo report di laboratorio. Esistono ovviamente diversi modelli, io qui ad esempio ne propongo uno che è quello che di solito illustro agli studenti prima dell'attività di laboratorio. La relazione deve essere composta da un titolo, da un obiettivo, da dei principi teorici, da un elenco del materiale, da un disegno schematico, dal procedimento, dati, tabelle e poi a delle conclusioni. Questi sono i diversi punti. Può essere fatta con Word oppure anche a mano e ci sono appunto delle indicazioni che di solito do e che gli studenti devono seguire. Ad esempio il procedimento deve essere scritto in modo più oggettivo possibile. Anche imparare a scrivere in modo tecnico fa parte dell'apprendimento sperimentale. Qui ci sono alcune foto, gli studenti possono fare delle foto per, diciamo, immortalare certi momenti. Qua è un esempio di elaborazione fatta in Excel con i dati delle masse, i dati delle forze e la costante di proporzionalità diretta che si è assunta. Perché si è assunta una costante di proporzionalità diretta? Perché al crescere delle masse cresce la forza. Quindi uno va a indagare qual è questa costante e si vede che si aggira attorno a 9,8 newton su chili, che è proprio l'accelerazione di gravità. Qui viene fuori dal grafico che la relazione tra forza e massa è direttamente proporzionale, come si vede da questa linea retta, raffigurata. La griglia di valutazione per la relazione può essere diversa. Da ognuno, diciamo, io ho elaborato questa griglia che vi faccio vedere qua facendo una sintesi di diverse griglie che ho trovato in giro. Si danno dei punteggi, si parte da una base di 2, si arriva a un massimo di 10 e le cose, diciamo, gli obiettivi che si vanno a vedere che siano stati individuati dalla relazione sono, ad esempio, se individua la fisica, se descrive in modo corretto la procedura, se i dati e i calcoli sono stati presentati in modo corretto, se i grafici sono corretti, se le conclusioni sono appropriate e poi anche un punteggio, diciamo, sulla qualità generale della relazione. Ecco, questo è più o meno, ma i punteggi, come ho già detto, possono variare, potete anche voi farvi variare a seconda del vostro piacimento. L'importante è che gli studenti sappiano quali sono questi obiettivi da andare a sviluppare durante la relazione. Tornando al concorso straordinario del 2020, una domanda che mi è stata fatta è stata questa, descrivere brevemente l'oscillatore armonico e progettare un'attività di laboratorio sull'argomento. Ora, qui posso utilizzare appunto l'unità didattica che ho descritto un attimo fa, dove appunto il titolo può essere oscillatore armonico, la fase di progettazione con gli strumenti possono essere molle, pesi e quello che ci si pone come problema può essere ad esempio lo studio del periodo del moto armonico, quindi andare a costruire un pendolo come è illustrato qua in figura con una massa che oscilla e andare a misurare con un cronometro il periodo delle oscillazioni complete, quindi andare a vedere, strappolare una legge sperimentale ovviamente che descriva il moto armonico. Questa può essere una proposta di unità didattica di apprendimento per lo studio sperimentale del moto armonico e questo è quello che ho proposto nel concorso straordinario. Questo lo riporto a modi di esempio ulteriore, giusto per fare il punto della situazione. Link utili di nuovo che vado a suggerire sono quelli di Fuoriclassi Academy dove sono andato a prendere molto spunto. Il mio video sull'esperienza tra la relazione massa peso che c'è anche sul mio canale YouTube, il manuale che ho utilizzato per i riferimenti sulla pedagogia di Dewey, il video di Francesco Samani sull'attività laboratoriale e metodologica e poi il mio vecchio video sul concorso straordinario che potete prendere visione sul mio canale. E con questo ho terminato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.